Evoluzione La nostra idea di esseri evoluti sta ad indicare una sola misura. Questa spesso viene paragonata ad un ceto o ad un gruppo chiuso. Il punto cardine è l'emisfero e non ruota a destra né a sinistra. Ma va avanti e lascia indietro chi non riesce a comprendere il nesso o il luogo di tale centramento. Le coscienze, che tanto premono per il loro contributo in termini di solidi, dovrebbero essere così evolute da trovare il centro e lo scopo di essere in gara per l'ascensione e non sperare di farne parte solo per un fatto voluto, ma per i fatti a sé correlati ed espressi in termini concreti. Date e vi sarà dato. Esprimete un concetto e sarà espressa la sua vera logica. Aiutate a scindere il bene dal male e datevi un tempo per risolvere ciò che lasciate in sospeso senza peccare di un male peggiore che è la rinuncia e l'abbandono. Grazie. 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 Grazie.